Signore, è inutile, in questo momento, abbandonato da te, e sono tra la mia gente, sento sulla mente una formica. Ma due formiche, sono due formiche, un'idea di solidarietà. Al nostro ramo, unite il vostro cuore, un'altra si aggreda, un'altra si fa soli, che già sia un'unico, in questo momento. E' un momento, abbandonato da te, che la mia gente, sono due formiche, un'altra si aggreda, un'altra si aggreda. E' un momento, abbandonato da te, e' un momento, abbandonato da te,